Quanto ci metti per andare giù in Abruzzo? Castelmanardo Capo imperatorio, non erano i 50, sono lì Perché comunque problemi ne ha, non è che non ne ha di problemi La galleria? No, lui Ah, lui Se vado a Frotignano ci metto un'ora Lui l'abbadonna un'ora Oh, buongiorno Buongiorno, buongiorno Buongiorno Perché buongiorno, buongiorno? No, no, è una questione esclusivamente di motore Perché è l'assorbimento La batteria è un accumulatore di energia È 500 wattora Ho un motore da 500 wattora Un'ora, finita la batteria Invece se ho 500 wattora di batteria E ho un motore da 250 watt La batteria mi dura due ore Boh, finisce lì Sì, siamo andati in mezzo alla neve E volevamo salutare Fabrizio Grande Fabrizio Ciao Fabrizio E ci delizia sempre La Foligno, come? Ma lo sa che è lui Che ci delizia sempre con le sue avventure Dal Canada O dai vari canaloni E roba varia Che fa come È un pazzo curioso Grande Fabrizio Però non posso venderti la bici Mi spiace Una cosa che non abbiamo detto Una cosa che non abbiamo detto importantissimo Che aggiungo che Devo rifarlo È un altro rumore Che è un altro rumore Che è anche quello da gusto Molto più silenzio Molto più E voi E voi ci andate sulla neve Non è vero Non è vero Sei proprio bastardo Quando il rumore delle ruote sulla neve Che fa proprio Comunque sembra il rumore di un casco Non era assolutamente quello Non è vero Perché senti proprio la neve che si schiaccia Senti È sempre un casco Che pare la moca Che è il caffè che sale Le batterie sulle bici elettriche Non sono un problema Non fate gli estender fatti in casa Perché è successo L'ho visti E succederà sempre E succederà sempre Bruciano anche Bruciano di brutto Basta insultare così Oh Ma calma No è voler bene Ma te non vai manco più in bici Cosa vuoi? Ti ha toccato il tasto collocativo Io lo faccio nero Però sei No sei partito prima tu Buongiorno buongiorno Cassa martello Tolco È arrivata la neve È arrivata la neve Attenzione E noi ci siamo già divertiti un po' Eh siamo andati sulla neve È stato molto divertente E probabilmente Ne faremo altri Io spero Però sono tanti Credo me il lupo Aspetta Finchiamo che si chi sono i lupi Ragazzi Eh in cala Ci sono i lupi No? Se mantiene in settimana Andiamo su E ci divertiamo Il bambino da Ancona Non l'ho visto mai No è vero Da Ancona Non lo vedi ste cose Allora intanto Andare sulla neve È una figata Già C'hai un paesaggio Anche sul sentiero Completamente diverso Non vedi tante Sì ti butti Tante piccole cose Bravo esatto Che ti possono mettere timore Non le vedi E quindi vai molto più Sì è stato Più flow Molto più tranquillo Divertente E comunque io con la Rocky Mi sono divertito Perché no Batteria infinita Io ho provato finalmente la Rocky Grazie di avermi la fatta provare E quindi Confermo Il suo motore Non è più Il motore preferito Il Bosch Ma è diventato Un altro motore No Rimane Bosch Però Dynam C'ha un qualcosa In più Bello È stato divertente L'abbiamo provato Io l'ho provato solo in salita Mentre andavamo su Beh il motore solo in salita Lo provi No vabbè Però l'ho provato In questa strada Sterrata Non sulla spalla Abbiamo provato lì Che io con il Bosch Non riuscivo a stare dietro Non mai minimamente È proprio zero proprio Ok Confermo che È un bel motore Cambierei Trek E Bosch Per Per questo qui Ma A parte Sensazioni sui motori Che comunque Abbiamo già parlato Nel precedente talk Proprio Il giro sulla neve È Dà un certo Un certo gusto No Anche a livello di Di natura Di wild Una serenità diversa Sì Che vai su È più il piacere Di stare in un posto Magari dove non è passato nessuno Perché vedi la neve è tutta piatta Però nasconde un po' di insidie Secondo me La neve è bella Ti rende la superficie Magari tutta piatta Tutta uguale Però ci sono le buche sotto E la bici può affondare E ci sono abbastanza insidie Devi comunque pedalare anche in discesa Perché sennò non vai da nessuna parte È più una roba È un'esperienza La Voduria La Voduria Così Esatto La roba da Vai fai un giro Ti diverti Ti butti per terra Sicuramente qualche volta E boh Noi per fortuna Non ci siamo buttati Noi non ci siamo buttati Abbiamo rischiato C'era un pezzo Un paio di rischi Che dove c'era la Bravo Abbiamo rischiato Sono andato avanti a te apposta Ovviamente Che tanto non le deve morire No è a morire adesso Però Abbiamo scoperto No però ti sei accorto E c'era un bel gradino Però abbiamo visto anche Che la tua batteria È andata giù In fretta In fretta È vero Non la mia Perché vabbè La Rocky c'ha un altro assorbimento Però tu c'hai il Bosch 625 È andato giù in fretta Ed è Dovuto Comunque dal freddo Dalle temperature Esatto Sì Quindi ecco Io mi riallaccerei Al discorso Uscita sulla neve Figata È tutto quello che vuoi Ma quando c'hai Bici elettriche Dobbiamo per forza Fare i conti Con delle batterie Che rendono meno Sì Questo è vero Quando c'è il freddo Il mantenimento Della batteria Questo è una cosa in più Da dire Però ecco Quando giri Magari Come avevamo detto Anche durante il giro Lo sforzo Della bicicletta È dato Di più Maggiore Soprattutto sui terreni morbidi E neve Esatto Però quello è dovuto Comunque a una cosa meccanica Sì Realmente le batterie D'inverno Vanno giù Almeno del 20% Sì È vero Facciamo caso Una batteria classica Di un 625 O 750 Bosch Che sono quelle Che abbiamo detto Anche l'altra volta Che rendono Di più Rispetto alle altre Caricate In un posto freddo Rendono Tanto di meno Caricate In un posto caldo E usate In un posto freddo Comunque Rendono di meno Ma Si mantengono meglio Sì Esatto La batteria 20 gradi È l'ideale Per caricare una batteria Tra i 10 e i 20 gradi Una classica casa Riscaldata Normale Che può stare Dai Che ne so Dai 15 ai 22 gradi Una casa d'inverno A parte il gas Che costa un botto Quindi deve essere Molto benestante Saremo tutti belli Un po' più Versi i 17 Però si ricarica bene E ha un buon rendimento Comunque inferiore A quello che c'è D'estate Perché la batteria Quando poi Va a essere usata E si gira A 0 gradi Tanto dura di meno Non c'è niente da fare Quindi Non preoccupiamoci Se d'inverno La bici fa meno chilometri E meno dislivello Rispetto all'estate Quello è una roba tranquilla È gestibile Ed è risaputo Prima di tutto Facendo un'uscita È sempre consigliabile Non arrivare allo 0% Della batteria Perché comunque sia L'usura è maggiore Consiglio anche Magari Di caricare La bicicletta Non subito Dopo aver Se non siete Sicuri Di girare Il giorno dopo O magari Immediatamente Consiglio di aspettare Un attimo A caricare La bicicletta Perché se voi Caricate La bicicletta Al 100% Magari dopo Un mese Per qualsiasi motivo Rigirate Portate a usura Maggiore Della batteria E quindi Della bicicletta Stessa E perdete Anche potenza Della bicicletta Nessuno Dice che Le nuove batterie Non si possono Scaricare tutte Io mi ricordo Certe batterie Bosch Dell'inizio Da 300 watt Ora ma parliamo Di 5-6 Forse anche 8 anni fa Arrivavano a 0% E il BMS Non riusciva più A avere lo spunto Per partire Cioè per riconoscere La corrente Quindi la batteria Moriva Su batterie vecchie Questo è vero Non arrivare Troppe volte A 0% E' buono Sulle nuove batterie Invece abbiamo Un altro tipo di discorso Si possono sfruttare Tranquillamente Tutte Quindi puoi arrivare Tranquillamente a 0% Fino a spegnere la batteria Perché comunque Ha una carica residua Che gestisce Poi la ripartenza E' ovvio Che se io Prendo una batteria La scarico a 0% E la lascio ferma Per un anno e mezzo Probabilmente La batteria Non riparte più Quello è vero Però state tranquilli Che con le batterie Di ultima generazione Da 3-4 anni A questa parte Non succede Assolutamente nulla Se si scaricano Tutte Si possono tranquillamente Sfruttare tutte L'altra cosa interessante Che dicevi E' Non caricarla Quella è l'accortezza fondamentale Che non in tutte Però le batterie Perché C'è una differenza Tra Shimano Bosch Quelle classiche Di BMZ O le Darfone Che sono quelle Che usano adesso I motori Shimano Tipo Santa Cruz O tipo anche Iad Altri Altri marchi Quelle lì E' giusto Il comportamento Che dici tu Di caricarle Probabilmente Il giorno prima Come diciamo In negozio sempre Prima Prima dell'uscita Metti in carica Tutta la notte La stacchi la mattina E vai E' un rischio Perché se c'è qualcosa Che non funziona La mattina Sei a casa Però ecco Magari giorno prima Del giorno prima Fai questa procedura Il giorno prima Del giorno prima È bellissimo L'altra cosa Per dire Nel caso di Rocky Mountain Ti dice proprio Di tenere la batteria carica Invece E ti dice proprio Di attaccarla Ogni Ogni 3-4 giorni Di attaccarla Una settimana Per dire Quindi è contrario Dalle altre Se guardi su tutti Gli scatoloni Rocky Mountain C'è una finestrella Disegnata sullo scatolone Quella lì È il punto in cui L'imballaggio Basta aprire Quella finestrella Per caricarla Nel caso in cui Le bici rimanessero Troppo tempo Nei magazzini Questa cosa Ecco In base alle batterie L'altra cosa interessante È che se uno La deve tenere ferma Per tanto tempo Magari Deve tenerla a metà A metà batteria A metà A metà carica Di solito Quando arrivano a noi Le biciclette Che sono negli scatoloni Per dire Shimano E Rocky Le batterie sono dormienti Sono in fase dormiente Vuol dire che Noi la attiviamo Quando mettiamo il caricatore Quindi non parte La bicicletta Quando arriva nuova Se io schiaccio Posso star lì a schiacciare 20 volte Finché non attacco Il caricatore Non parte la bicicletta Questa è una sorta Di protezione Per l'usura Della batteria Quindi in fase dormiente Attacchi il caricatore Riparte E siamo a posto Ora si carica È il primo ciclo di carica Dopo ovviamente Come hai detto te Qualche manutenzione Quindi quando si va a togliere la batteria Oppure quando si va a pulire la bicicletta Nei punti di contatto Avere uno spray per contatti a casa Sottolineiamo che qui c'è un sacco di Come si dice Disinformazione La ringrazio Ho perso dei termini Tanti pensano ancora che sia meglio Per non rovinare la batteria Toglierla durante il lavaggio Assolutamente no Mettetevi in esposizione Tutti i contatti E le cose scoperte Lasciate la batteria Lavate la bicicletta Tutti quei video tutorial Che hanno fatto vedere Come si lava un e-bike Togliendo la batteria Sarebbero da bruciare È tutto incastrato Non ha problemi di assorbimento di acqua Si lava Tranquillamente È come si va a fare Un'escursione Quando piove O nevica Per l'appunto Si lava E boom Mi aggancio a questa cosa Quando la lavate Non succede mai Ma se per caso Va a finire l'acqua Sui contatti Anche di qualche connettore Della batteria Se vedete che non si accende Passate l'aria compressa Lì nella zona E vedrete che poi Si asciuga Esatto Vedrete che poi Si riaccende Tutte le parti di contatto Asciugarle bene O con l'aria compressa O poi una volta lavata Magari asciugandola Con un panno Ma anche la parte Del caricatore Dove si mette il caricatore Normalmente Asciugarla bene E mettere Se ce l'avete Oppure lo procurate E lo spray per contatti Io tenderei a dire Che addirittura Forse È l'ultima L'ultima cosa Da guardare Quando si compra una bici Anche usata Anche per la garanzia Che diamo Solitamente Che viene data Proprio dalla casa Non c'è problema Come le dicerie Eh la batteria No dopo è finita La batteria È molto difficile Trovare una batteria Finita Noi abbiamo ancora Io ho ancora La prima Del 2012 Di un iBike E ce l'ho ancora E funziona Tre anni Che so qui Penso di aver visto Due garanzie Su due batterie Che tra l'altro Non è perché erano finite Ma perché avevano preso Un errore Un errore Di software Ma quello ci sta Molto più frequente Il motore Molto 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 I cicli fortunatamente Sono tutti visibili Quindi una batteria Con 250 cicli di carica Per me è una batteria nuova Poi ovvio che Nell'arco del tempo Dai sei anni in su Magari una batteria Può rendere un po' di meno Dipende da quanto la usa Quanto la carica E da come la carica Come abbiamo detto prima Non lavatela E caricatela subito Comunque sia Stiamo parlando di una bicicletta Lavata Quindi bagnata Aspettate un momento Come mi raggancio Al discorso di prima Se dovete comunque girare Il giorno dopo Va benissimo Passate accuratamente È qualcosa in più Per precisare Magari se qualcuno Gli viene in mente Devo lavarla E subito caricarla No Con calma Piuttosto lasciala sporca La bicicletta Esatto Caricala e poi lavala Esatto Ottimo anche questo consiglio Sarebbe meglio il contrario Ovviamente se la devi usare Dopo 6 ore Mettila in carica E poi se ti va la lavi Se no la lavi Quando è finita L'altra uscita Anche lì Stiamo parlando di biciclette Di montagna Ci sta anche Che uno esce con la bici Non perfettamente pulita Non fate gli extender Fatti in casa Perché è successo L'ho visti E succederà sempre E succederà sempre Bruciano anche Bruciano di brutto Affidatevi sempre Ai marchi Sì ma tenere Cioè se io prendo Una batteria Da 750 wattora Col Bosch 2023 Adesso Mettere un extender Da 250 wattora Qual è il senso? Ragazzi Dobbiamo essere anche Oggettivi su questo argomento Cioè oramai I motori E batterie Che abbiamo Adesso sono talmente Tanto performanti Che permettono Veramente a chiunque Di qualsiasi tipo Di allenamento Qualsiasi età Quello che sia Di divertirsi in montagna Bisogna avere Un pelo però Un pelo però Di costanza Un pelo di costanza E di volontà Comunque sia Siamo consapevole Di andare a acquistare Una bici A tutti gli effetti Quindi sappiamo Che dobbiamo pedalare E metterci un minimo Del nostro L'extender Fatto di trafugo Che non si può fare Ragazzi Salta le garanzie Le garanzie Non avete più garanzie Sulla batteria Adesso Ultimamente Bosch Ha cominciato Anche a ritirare Le batterie Perché fino agli ultimi anni Ti faceva buttare via La batteria Se non andava E adesso mandano La scatola Per merce pericolosa Quindi anche lì Non si scappa più Basta Gli extender Aftermarket Io non li consiglio Non li consiglio In negozio Posso farli Sì Li voglio fare No E' facile Che la batteria Va in corto Poi Io A tutti quelli Che glielo ho montato E non li monto più Non li vorrei più montare Dico che Non vanno Un gran che bene Ho sempre Comunque detto Prima che si perde garanzia E io non c'entro nulla Anche perché ad oggi Abbiamo fatto Delle considerazioni Un cliente Che ha una bici Di fascia media Una Craft TR Con Bosch 625 E' molto Molto più conveniente Acquista una Craft TR 2023 Col Bosch 750 Comunque sia per dire Una bici Di stavano Accelerazioni Che hanno batterie Da 720 E 750 Con pochi euro In più Comunque sia magari Con mille euro In più C'è una bici Totalmente diversa Una bici nuova Ah beh Quello sicuramente Un estender È sempre 500 Errotti euro Con il rischio Che vai a invalidare La garanzia Ma poi c'hai Due cariche Devi caricarli I visi 500 Eh ma Vabbè Prima c'aveva Senso Sì C'aveva anche senso Prendere due batterie Allora La scomodità Di quei estender Vecchi Quelli al zainetto Sì Ma quello è C'è Tantissime cose Ci sono E probabilmente Era un qualcosa Di giustificato Prima Sì Dalla durata Perché comunque pre-covid Scomodissimo C'avevamo poca autonomia Scomodo Tutto quello che vuoi Adesso non ne vedo più la necessità Assolutamente Parliamo di una bicicletta base 4.800 euro scontata Con 720 di wattora Di batteria Cioè Dove dobbiamo andare E ci siamo resi conto Parlando ovviamente Col cliente Quando arriva in negozio Comprontandoci Ti racconta L'uscita Cioè l'uscita Del cliente Medio L'amatore Della domenica Una o due volte A settimana 1200 metri Fa 1200 metri Di livello Che ragazzi Anche col Bosch 625 Fa 1200 metri Di livello A boost A boost Sì Sì Cioè Parliamo del motore Al massimo 85 minuti al metro Quindi Non si riesce bene A capire A giustificare Sta cosa Che qualcuno A me è capitato Che vendendo una bici Col 720 750 No no È troppo poca Se non si può mettere Standard Non è la bici Per me E mi chiedo Cosa ci devi fare Poi dei confronti Parli e capisci Che l'uscita media sua È 30 35 km Con 1000 metri Di livello Quindi non riesco Nemmeno a capire C'è tanto Uccide tanto il peso No? Sì Quello sicuro Quindi Non farei dubbio Chi pesa un po' di più Magari non riesce A aver tempo Durante la settimana Per allenarsi Qual è la cosa sbagliata Però Di fondo Di fondo È sbagliato Andare Solo a turbo È la congestione D'utilizzo Sbagliata Noi a pranzo Tante volte ci capita Noi a pranzo Noi a pranzo Abbiamo un'ora e mezza Mettiamo il motore a turbo Ma non abbiamo mai finito La batteria No Mi riaggancio a quello Che hai detto te Vai sempre in turbo Tutti i giorni Ogni volta che ci vai Ovviamente la batteria E anche il motore stesso Dura molto meno Rispetto a uno Che varia Non ti dico Eco tour Però Non solo turbo Giustissimo Quello che hai detto Parliamo di motore Fondamentalmente lì Perché poi la batteria È un accumulatore Non è che incide Come gli scarichi Fondamentalmente Entra la corrente E esce Il motore invece Andando a turbo Sempre E solo a turbo Ne risente parecchio Gli ingranaggi Le cinghie Tutto quello che abbiamo parlato La volta scorsa E ovviamente Si usurano di più Come se io prendo un trapano No Lo metto a massimo Sempre A forzare Mi dura due mesi Prendo un trapano Lo uso meglio E mi dura due anni Però proprio Concettualmente Secondo me Dovrebbe cominciare A passare Anche il discorso Che andando in bicicletta Poi con gli accorgimenti E con le evoluzioni Che abbiamo oggi Veramente Una batteria Con 720 O 750 wattora Ti fanno pedalare Una mattinata intera Facendo 2000 metri Di dislivello Se ci metti Un minimo di voglia Anche Un minimo di voglia Di pedalare Vuol dire Mi scaldo Ste gambe Me le porto Un attimo Che mi bruciano Non è che Non ti ammazzano Ma nemmeno Arrivano No Ovviamente Tu sei Quella è la parte tua Per carità Però Neanche che devi arrivare A bruciare Calde Un po' caldo Che lavoriamo Comunque A meno che ti vengano La fame per pranzo Stiamo acquistando Stiamo acquistando Una bici A quel punto Se utilizzate In una determinata maniera Come la usano Tanti Mi dispiace Dirlo Ma è anche un po' Ne parlavamo stamattina Deprimente Il fatto Che venga utilizzata In una determinata maniera Perché c'è proprio Una concezione Sbagliata E poi ci facciamo Una riadità Da quella fetta Di popolazione Che ancora è restia E ha paura Delle bike Sì sì Perché qualcuno Realmente La utilizza male Ma male Quello è giusto Però secondo me È anche giusto Capire questi Che la usano male E fargli capire Che bisognerebbe Usarla Anche perché Chi usa male La bici Le bike Non è un ciclista No Beh Di sicuro Il 99% Non è un ciclista Oppure è un ciclista Che è stato male E non può fare diversamente Completamente Un altro discorso Certo Però se noi riusciamo A educare Magari Qualcuno Che Comincia Piano piano Non dico di andare In eco O spento Anche a turbo Piano piano Qualche volta Gli viene voglia Di rimettere Una velocità In meno E vedere Di fare Un pelo Di strada In più Secondo me Già lì Qual è la soglia Anche della fatica Quando si comincia A faticare Perché il problema È che Realmente Le bike Avvicinato A tante persone Ben venga Però tante persone Che magari Fino a 45 anni Avuto lì Non sanno Quello che è La fatica A livello sportivo Non hanno mai fatto Una corsetta Non sono mai andati Un giorno in palestra Non hanno mai praticato Uno sport Né di squadra Quindi difficilmente Riescono a capire La concezione Di fatica E Assogiano L'e-bike A divertimento Che lo è Accompagnato Da un minimo Di sforzo fisico Che è anche poi Quello che ti va a dare La resa E la sensazione Di soddisfazione C'è anche quello C'è anche quello Ragazzi Che è bello È una delle parti Belle Diciamo Che l'investimento Che è un investimento Comunque Un e-bike Assolutamente Deve valere L'investimento Cioè Io spendo X Per avere Y Allora La bici l'ho comprata Ho speso 5.000 euro Ho speso 5.000 euro Ma questa bici qualcosa Mi deve fare A posto di portarmi Solo in montagna No Qui parliamo di sport Parliamo di Un minimo di attività Sportiva Quindi Cerchiamo di ridurre Leggermente La manetta E pedalare Leggermente Di più E secondo me Viene fuori Molta Bissoddisfazione Molta Molta Bissoddisfazione Poi Nel caso straordinario L'avevi detto tu Noi ci andiamo A pausa pranzo In bicicletta Usi turbo Per una questione Di tempo Cioè In un'ora Riesci a fare In un'ora Siamo riusciti A fare 800 metri Di dislivello Sì 800 Cioè In quel caso È un conto Possiamo fare lo stesso Identico giro Non a turbo Magari ci abbiamo Più range Di tempo A domenica Quello lo fai Tranquillamente E' quello Capì come utilizzarla Ma non Secondo me Quello che non dovete fare Ragazzi È vergognarvi Di chiederlo Cioè Noi stiamo qui Noi non stiamo qui Solo per consegnarvi La bici Per spiegarvi Come funziona La bici O consigliarvi Un macchio Piuttosto che un altro Chiedete Cioè Fa parte anche Del mio lavoro Perché io sono Un preparatore Quindi È ben Venga che qualcuno Chieda Fa parte infatti Del lavoro Di tutti Nello specifico Muscularmente Ok Però anche io Che ci vado tutti i giorni Anche Gianluca Che ci vado tutti i giorni E c'è anche La bici Fa l'eroica Cioè Gli piace anche pedalare Quindi Anche chiedere un qualcosa Ma se non vado Magari se mi brucia Oppure se mi fa male Quel muscolo lì Che cosa Perché Cosa succede Cosa ho fatto 5.000 euro Non sono solo Una comodità Sono anche uno stimolo No Certo Uno li dispende Per faticare Non per faticare Non per faticare No Il concetto è proprio quello Io investo euro Per avere qualcosa indietro Qualcosa non deve essere La Ferrari Da mostrare All'aperitivo Io ce l'ho sempre con gli aperitivi Non è Ma deve essere un qualcosa Che mi porta Qualcosa in più Solo del divertimento Perché soddisfazione È uguale anche al divertimento L'altro giorno Siamo andati su 800 metri di slivello E il pomeriggio Comunque le gambe Ci facevano male Sì Ma forse perché Non eravamo allenati Beh è proprio quello il discorso Scusate È proprio quello il discorso Dentro fisicamente Ti fa venire vuoi A c***o Mi fa male le gambe Ho fatto 800 metri di slivello A turbo Però è stato soddisfacente Bello Però Andiamoci un po' più spesso Che magari le gambe Non ci fanno più male E facciamo più di 800 metri Questo è il discorso Non mi ricordo come si chiama Il ragazzo che ci ha commentato Ma Non abbiamo parlato Del brose Approfonditamente Esclusivamente Perché l'abbiamo provato Poco Almeno noi come negozio I marchi che abbiamo Avuto Con motore brose Quindi Bulls e Fantic Purtroppo Andiamo con L'assicuratore Almeno se è una sicura Almeno se è una sicura Grazie a tutti Grazie a tutti